Damiano Scaramella, benvenuto. Buonasera, grazie mille Livio e grazie per l'ospitalità. Ed eccoci qua nel nostro podcast del Posto delle Parole per condividere insieme con Damiano Scaramella il suo libro intitolato Come in cielo, un romanzo pubblicato dalla casa editrice N.N. Damiano Scaramella, nato a Palestrina, viva a Milano, è stato editor della saggistica italiana di una importante casa editrice come Il Saggiatore e poi ha diretto un nuovo marchio e lo dirigi tuttora Damiano Scaramella? Sì, lo dirigo tuttora. E qual è questo marchio editoriale? Si chiama VUZ Edizioni ed è un marchio che in realtà verrà inaugurato a marzo 2024, quindi siamo sul punto di iniziare questa avventura. È anche molto bello sentire iniziare nuove avventure editoriali, abbiamo raccontato proprio pochi giorni fa quella dell'Ago Edizione, quindi racconteremo anche questa nuova avventura, questa nuova sfida editoriale. E di che cosa si occuperà in pratica? Qual è la missione editoriale di questa casa editrice Damiano Scaramella? Ma diciamo la visione di VUZ è una visione molto ampia nelle idee ma molto chiara poi negli obiettivi interiori innanzitutto. È una casa editrice che nasce provando a essere un editore del contemporaneo, quindi a utilizzare tutti quegli strumenti strategici che la contemporaneità ci offre, quindi la multimedialità per esempio, una certa aderenza anche di indagine ai temi del contemporaneo, pubblicherà saggistica e narrativa, si occuperà di cinema, di scienza, di letteratura, di moda, però lo farà sempre cercando temi, argomenti, autori capaci di imprimere un'impronta, come dire, paradigmatica, fondamentale, quindi storie, libri che in qualche modo siano destinati a restare nel tempo e non fugace apparizioni del presente. Eh sì, Damiano Scaramella tocca un tema importante, fugace apparizioni del presente, dicendo questo non è che ci aspettiamo sempre libri come Guerra e Pace, tanto per citarne uno, però ci aspettiamo anche un impegno da parte di chi scrive, da parte di chi pubblica e poi diciamocela tutta, Damiano Scaramella, l'impegno anche da parte di chi legge, perché abbiamo un bel dire che ci sono tanti libri che e via dicendo, però la scelta poi in sostanza la facciamo noi, noi lettori. Vero, assolutamente vero e un po' bisognerebbe forse tornare anche l'idea di editori che c'era, anche se questo può sembrare anacronistico rispetto al discorso della contemporaneità, ma nel Novecento quando l'editore era colui che costruiva il suo pubblico, costruiva i lettori, non semplicemente tentava di adescarli nella fitta ragnatela del commercio e forse questo è un po' un compito che oggi con strumenti diversi, con ambizioni diverse, l'editoria deve recuperare e lo sta facendo già in parte con eccellenti editori, ma sicuramente per un editore che nasce oggi questo deve essere un recupero, diciamo, di un fuoco del passato che deve essere riattualizzato, ecco, quantomeno. E come lo costruisce l'autore, il lettore? Questo non vuol dire fare l'occhiolino al lettore, anzi, ben il contrario, vuol dire dare una responsabilità e prenderla nello stesso tempo. Dal punto di vista degli autori sicuramente c'è, come ben sai Livio, un po' anche una tendenza che dal due anni in poi si è innescata in chi scrive libri, in chi si occupa di letteratura in maniera attiva, cioè tenta di raccontare storie che è sempre quella di magari essere accomodante nei confronti di quelle che sono poi gli stimoli più facilmente digeribili da lettori, quindi spesso io l'ho visto più, devo dire, da editore questo fatto, un dimagrimento della lingua, un'intenzione di comunicabilità immediata, efficace, semplice, che sono comunque delle ambizioni che quando riescono, ci sono molti casi che riescono bene, sono decisamente apprezzabili. Quando diventano fenomeno però a 360 gradi sistemico, una sorta di contagio, c'è un problema. Quindi l'editore, penso sempre, e poi gli autori, perché un editore cos'è se non un grande ecosistema che permette, come a delle piante, a degli alberi, di vivere a diverse voci, a diversi autori, eccetera, di costruire un rapporto con il lettore che sia anche un po' di sfida, sia anche un po', come dire, si ponga questa strana ambizione di non essere facilmente digeribile, di non essere facilmente assimilabile, ma di provare anche, no, a alzare un po' quelli che sono i decibel interiori, le domande interiori, i mormori interiori, direbbe McCarthy, che tutti abbiamo ma che spesso non sentiamo. Ecco, per lì deve attivarli l'autore, credo. Il McCarthy appena citato è il famoso Cormac McCarthy, che tra l'altro abbiamo potuto leggere l'ultimo romanzo, Il passeggero, un'altra scrittura straordinaria, ma non era a caso la citazione di McCarthy, per nebbiamo scorrerela, perché in esergo ci pone due frasi molto importanti, la prima di Colman McCarthy, la seconda di Federico Fellini. McCarthy dice, cosa siamo noi? 10% biologia e 90% mormorio notturno. Federico Fellini invece, nulla si sa, tutto si immagina. Ecco, partiamo da questo mormorio notturno, Damiano Scaramella, perché questo mormorio notturno, che a volte è anche un po' un mormorio quotidiano, è in pratica la colonna musicale della nostra vita, o forse, se vogliamo dirlo in un'altra maniera, è un po' il controcanto, ma in ogni caso forse non possiamo fare a meno di questo mormorio. Non possiamo farne a meno, ed è verissimo quanto dici, che in realtà questo mormorio è notturno solo quando noi ne siamo, largamente, e lo siamo spesso inconsapevoli, quindi quando ci appare nei sogni, per esempio, quando ci appare anche i pensieri che di notte più facilmente ci assaigono, l'obiettivo un po', e ci ricolleghiamo alla tua bellissima suggestione di prima, di un attore dovrebbe essere quello di renderli in realtà quotidiani, cioè di far sì che questo mormorio notturno sia in realtà un mormorio incessante, sia un continuo mescolarsi di voce e parole che ci punzecchiano, ci solleticano, a volte ci feriscono, ci trafiggono e ci fanno pensare. Ecco, quindi, come in cielo, per come l'ho scritto, come l'ho immaginato, era un libro che, a meno delle ambizioni, voleva in qualche modo continuamente pungolare il lettore attraverso i personaggi, la storia, e far sorgere molte domande, e far sì che queste domande poi però non sparissero semplicemente in un sogno, ma diventassero veramente un accompagnamento giornaliero, quotidiano, una riflessione continua. E qui, in scena, in questo romanzo intitolato Come in cielo, un romanzo pubblicato da NN, l'editore, Damiano Scaramella, potremmo proprio dire che mette in scena, poco per volta, tutti quanti questi personaggi, siamo Catani, esattamente, nella provincia catanese, e uno dei protagonisti, quando si parla della provincia di Catani o di Catani, è sicuramente lui, che tra l'altro è anche fotografato nel risvolto di Copertina, ovvero l'Etna, e siamo esattamente a Badia, e qui c'è lo sviluppo di questo romanzo, che è un romanzo che porta in sé anche il destino della morte, perché no, va nella traccia di questa storia, ma la traccia di questa storia noi vogliamo cominciare a trovarla, Damiano Scaramella, nell'immagine di Copertina. Che cosa ci dice? Beh, anzitutto mi soffermerei un attimo sul colore della Copertina, che è un colore che a me piace molto, ed è un azzurro celeste, veramente proprio del cielo, e quel tipo di azzurro, mi pareva, la prima volta che l'ho vista, che giornalmente si vede in estate, privo di nubi, terzo, pulitissimo, e però è anche il tipico cielo sul quale può piombare da momentà all'altro un temporale estivo, di brevissima durata, molto rapido, ma anche clamorosamente letale, ecco, nei suoi risultati. Questa già è una parte di trama di cominciare. Poi la figura, questo uomo che viene ritratto al centro della copertina, che anche qui guardandolo, quando poi Eugenia Dubini, l'editrice di Annette e la redazione, me l'hanno sottoposta, la prima impressione è che era una sorta di gioconda, di strana gioconda sicula, perché tutt'oggi fatico a capire che espressione abbia, se sia un'espressione di contentezza, di preoccupazione, di spaisamento, e anche questo un po' è una personificazione di una serie di sentimenti, anche molto antagonisti tra di loro, che però all'interno del romanzo sono dei personaggi veri e propri, quindi racconta molto, indagandola di che tipo di storia è, quella di cominciare. Sì, qui la parola indagare è anche in particolar modo un'indagine molto psicologica all'interno di queste vite, la vita di Zupippo, che è il capo stipite, l'uomo che ha lavorato e che si è fatto da sé, e poi la vita a volte ha dei percorsi inaspettati, allora che cosa c'è da fare? Allora ci si reinventa, ci si rimette in discussione, si aprono nuove sfide e poi c'è Salvatore, e Salvatore potremmo dire veramente è l'altro, l'altro volto di Zupippo per certi aspetti, è il nipote, è il nipote che ha qualche cosa che non è per così dire normale come tutti, e allora è un personaggio da guardare con estrema attenzione e con tanto affetto, accompagnarlo nel corso della lettura, e quindi in che modo questi due personaggi tracciano le loro storie, le loro storie intricate, le loro storie che forse per certi aspetti non avrebbero mai voluto che si toccassero, e invece? Zupippo come hai ben rivelato è un personaggio un uomo anziano che si è costruito da solo, che viene dal nulla, che è cresciuto sulla montagna, sull'Etna che citavi poco fa, e che proprio questo venire dal nulla l'ha portato nel corso della vita continuamente a maturare una sola ambizione ossessiva e feroce, diventare qualcuno, essere riconosciuto come qualcuno dagli altri, costruirsi un ruolo, una posizione, un'autorità, ecco, nei suoi modi possibili. Un'autorità come la sua villa? Come la sua villa, che è questa villa per ricevimenti, che Badia è un nome di immaginazione, ma il paese, esiste veramente, la villa per ricevimenti, è sì un luogo fantastico nelle pagine di Comincerò, ma è un luogo reale, dove io ho trascorso molti anni, ecco, è un luogo di famiglia, potremmo dire così, quindi esiste, si può anche visitare, e dall'altra parte c'è questo nipote, che sì, è il nipote preferito di Zopipo, è colui, che in un certo senso un giorno, in questa sua ossessione, per questa sua ambizione, no, di diventare qualcuno, vorrà lasciare questo ruolo che si è costruito, solo che Salvatore, appunto, è un ragazzo di 30 anni, passati, e che però parla come un bambino, cioè biascicando come un bambino, cammina come un bambino, cioè arrancando come un bambino, perché una sua condizione, un suo ritardo mentale, in realtà lo porta ad essere, a tutti gli effetti, un bambino, e questo fatto Zopipo, e questo ci racconta molto del personaggio di Zopipo, non lo vuole ammettere, in primo luogo, a se stesso, perché in questo paradiso terrestre che lui ha costruito, tutto deve essere perfetto, e non è accettabile che ci sia nulla che non corrisponda, no, alle sue intenzioni, e questa è già una chiave di contrasto molto forte poi che si sviluppa all'interno del romanzo, e queste due figure, strada facendo, scrivendo, mi facevano tornare in mente altre due figure molto più antiche, che sono quelle di Abramo e Isacco, dall'Antico Testamento, Abramo, come Zopipo, era un centenario che possedeva tutte le terre, anche Zopipo le possiede, in realtà sono pochi ettari, ma per lui è il mondo intero, e dall'altra parte c'è Isacco, che compare nel romanzo come cornicio, ogni tanto attraversa le pagine, che è chiaramente una sorta di prefigurazione di Salvatore, questi due ragazzi accomunati da un ridere incessante, dal fatto che continuamente ridono per qualsiasi cosa, e proprio quel riso per me è una chiave di lettura importante del romanzo, perché quel tipo di riso lì è un riso difficile da comprendere per noi e da accettare, cioè noi non siamo in grado di ridere per nulla, abbiamo sempre bisogno che ridere si colleghi a qualcosa di pratico, di concreto, a un desiderio, a un possesso, mentre ridere per nulla è sospetto, fa di noi una persona, come dire, oscura, in qualche modo mostruosa, e infatti mostruosa è un aggettivo che credo possa attaccarsi bene a Salvatore visto dagli altri personaggi che popolano come in cielo. Sì, ma torniamo, torniamo Damiano Scaramella alla casa, questa casa che, se ricordo bene, Zuppipo aveva comprato l'asta per 8 milioni di lira a quel tempo, erano gli ultimi anni della lira, una vecchia casa, alcuni dicevano che era infestata anche dai fantasmi, però questa casa che è oggetto, protagonista assoluto di questo romanzo come in cielo, andando nella pagina dei ringraziamenti scopriamo che, e grazie alla moglie di Damiano Scaramella, e leggo, per avermi portato nella villa tenendomi per mano una sera di tanti anni fa. Ora, se non ci fosse stata quella visita, forse non ci sarebbe stato nemmeno questo romanzo, Damiano? Non ci sarebbe mai stato questo romanzo se non ci fosse stato in particolare una notte trascorsa in quella villa, non ci sarebbe stata mai neanche l'idea di questo romanzo, e quindi è un debito gigantesco questo libio che avevo nei confronti di mia moglie senza altro e che mi ha causato poi per diversi anni quelli di scrittura del romanzo, una vera ossessione continua, altro che notturna, ma proprio 24 ore al giorno. E di fatti poi una delle scene con cui si aprono le prime 50 pagine di Cominciaro quella di Salvatore, il ragazzo di cui raccontavamo prima, che assiste alla festa di nascosto, ecco, dietro una siepe e gode continuamente di questa felicità degli altri, questo ballare, questo baciarsi degli altri come se fosse il suo. È una scena che ho visto veramente in una notte passata alla villa, mentre nel frattempo c'era davvero un neomilodico che compare anche nel romanzo sotto falso nome che intratteneva il pubblico, quindi c'è un misto tra finzione e realtà molto forte, a volte anche per me impossibile, come dire, da sciogliere all'interno di queste pagine. Ed è anche una storia d'amore questo romanzo. Una storia d'amore forse qualcuno potrebbe dire è impossibile, ma in ogni modo è anche la parola amore entra in una forma inusitata forse potremmo ancora dire, però c'è perché uno sguardo si può sempre calare su una ragazza, l'unica ragazza, Beverly, la ragazza sulla quale si è sognato forse un futuro, un mondo o forse si è semplicemente posato lo sguardo e da parte di questo nostro protagonista ovvero Salvatore. e qui sta un altro un altro un altro nodo importante di questa storia Damiano. Direi che l'amore assolutamente ha guidato molte di queste pagine e può sembrare strano così riferirsi all'amore visto che poi è una storia che in qualche modo spinge questo amore sempre drammaticamente tragicamente però è ciò da cui parte tutto. Beverly è una ragazza anche qui ispirata alla realtà che lavora la villa diciamo dopo anni abbastanza complicati è riuscito a trovare questo piccolo lavoro da Zupi poi trascorre le serate lì come disc jockey se ne innamora chiaramente Salvatore ma di un amore impossibile di un amore fantasioso di un amore notturno utopico incomprensibile perché lui in questa sua incapacità come dire di essere adulto risulta anche incapace di amare ma in modo bellissimo mi avviso quindi è sempre un amore a distanza guardato da lontano sognato senza mai arrivare però davvero a un contatto e dall'altra parte si sviluppa una sorta di strano triangolo a distanza tra Beverly Salvatore e un altro personaggio che diventerà sempre più importante nella storia che è Tano che è l'ex ragazzo di Beverly il quale però a differenza di Salvatore anzi all'esatto contrario provava e prova tuttora nello svolgersi dei fatti un amore per Beverly che è ossessivo possessivo macista violento questa strana triangolazione si porta avanti in tutta la storia quindi sia diciamo all'inizio quando qualcosa poi fare in modo che tutto prenda una direzione diversa ma anche successivamente Beverly Tano e Salvatore quindi il loro amore perversi completamente diversi impossibile è ciò che muove è che in un certo senso questa storia quindi sono molto contento anzi che tu l'abbia rilevato perché non mi capita spesso ecco che l'amore venga subito identificato come uno dei protagonisti del libro ma in realtà per me lo è tutto nasce proprio da quell'occhio innamorato di Salvatore senza quell'occhio innamorato non ci sarebbe stata la storia di come incepe sarebbe stata impossibile fino ad arrivare alla distruzione ma qui ci fermiamo perché sono gli ascoltatori che scopriranno pagina dopo pagina come si sviluppa questo questo sogno come andrà a finire questa storia intitolata come in cielo pubblicata dalla casa editrice NN Editori ma prima di salutarci Damiano Scaramella qual è qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni? ma devo dire che in realtà ho diversi titoli al momento sulla mia scrivenia che porto avanti contemporaneamente adesso ho appena recuperato Michael Beeble di Adelphi l'ultima cosa bella sulla faccia della terra che mi aveva incuriosito e sto portando avanti e contemporaneamente anche se è una cosa che non si dovrebbe mai fare ma le urgenze di calendario non mi permettono altrimenti le schegge di Bratista Nellis ecco quindi sono queste le due letture molto contemporanee molto attuali diciamo che sto portando avanti eh sì il libro di Bible che dice già molto proprio del suo cognome è sicuramente un libro molto molto particolare no? che c'è un possiamo trovare per esempio in questo libro un filo rosso con la tua storia? ma in verità sì in verità sì per molti aspetti però ho approfittato della lettura per leggere alcune interviste di Bible per recuperare alcuni video perché mi affascinavano molto alcune sue dichiarazioni e devo dire che lo sto sentendo molto fraterno per molti punti di vista proprio di sguardo sulla letteratura di concezione di che cosa lo scrive di come raccontare una storia quindi lo sto leggendo con voglio dire con un occhio non arbitrario ma proprio con la curiosità di leggere quasi un amico a distanza da cui si cercano punti di contatto quindi è una lettura che sto facendo con molto piacere Michael Bible pubblicato da Delphi nella traduzione di Martina Testa spero di non sbagliarmi l'ultima cosa bella sulla faccia della terra è il titolo di questo romanzo mentre noi abbiamo raccontato insieme con Damiano Scaramella come in cielo pubblicato lo ricordo ancora da NN editore prima parlavi della presenza di Isacco e Isacco chiude chiude questo romanzo andando proprio nel vero senso del significato della sua parola Isacco colui che ride sì il romanzo si chiude ridendo infatti è che quel ridere poi il lettore scoprirà anche qui va interpretato va interpretato eh sì qui l'interpretazione è sicuramente necessaria perché ha molti registri di lettura grazie davvero Damiano Scaramella e buon lavoro grazie a te Libia buona serata grazie mille per l'ospedalità di nuovo grazie a tutti grazie a tutti